Parto con quello che nella mia, come sapete, pratica quotidiana da vent'anni mi occupo di prevenzione e farò una relazione tecnica. Quindi innanzitutto grazie per questo invito. Se è vero che tutto quello che hanno detto i miei relatori, i correlatori di questo meraviglioso evento, perché l'infiammazione è la madre di tutto, poi alla fine tenerla sotto controllo è fondamentale, è vero anche che oggi l'epigenetica è una vera e propria rivoluzione se ci pensate. Uno degli aspetti che poche volte non prendiamo in considerazione è il fatto che l'epigenetica è il software della vita. Quindi noi siamo i geni donati dai genitori, ma poi il software dipende soprattutto dall'ambiente, dal nostro stile di vita. Parlando di ambiente e stile di vita dobbiamo anche fare i conti con un aspetto che è quello che noi non viviamo, non mangiamo, non respiriamo e non pensiamo in un ambiente come 100, 200, 300 anni fa. E questo cosa vuol dire? Che come vedete lì ci sono tantissimi aspetti che intervengono e condizionano la nostra salute. Pensate, prima di tutto ho messo epigenetica, genetica e poi disfunzione mitocondriale. E naturalmente Mauro sa perché questo. Perché? Perché tutto parte da lì. Immaginate di avere un apporto di ossigeno ottimale ai vostri tessuti, però il vostro motore mitocondriale, quindi chi deve produrre l'energia non funziona. Possiamo dare tutte le vitamine che vogliamo, gli amminoacidi che vogliamo, l'ossigeno che vogliamo, ma probabilmente quell'ossigeno non verrà consumato in maniera ottimale. Quindi vedete, carenza di ossigeno o mancato consumo di ossigeno, cosa fa? Ti provoca acidosi, stress ossidativo, infiammazione. Questa è la prima infiammazione silente che può essere anche congenita. Poi naturalmente tutti gli aspetti che conoscete, dall'aria che respiriamo, perché metto l'aria, perché non possiamo parlare solo prima di cibo, prima partiamo dall'aria, perché senza quella non possiamo assolutamente vivere. Il cibo che mangiamo, le carenze nutrizionali, quante carenze? Oggi non ci sono più i cibi di una volta e pensate, lo vediamo, lo vedremo dopo, le carenze nutrizionali. I cibi comparati già con 30, 40, 50 anni fa, quelli di oggi contengono sicuramente quantità e il lavoro sicuramente del grande Mauro Miceli lo sa, oltre a tutte le micotossine, alfatossine, tutte le sostanze chimiche presenti nei cibi di oggi, c'è anche una forte carenza di un apporto come vitamine, minerali, eccetera. Poi tutti i contaminanti industriali, quindi questo è l'epigenetica, il software della vita. Vorrei ricordarvi che uno degli aspetti anche sottovalutati è il ruolo dei campi elettromagnetici, le radiazioni. Ci stiamo scordando del ruolo della luce del sole e della luna, abituati a vivere, pensate ai tre mesi del lockdown, comunque al chiuso, senza sole, che è fondamentale. È il nostro caricabatterie. È proprio il ruolo anche della luna, di cui nessuno parla e non si capisce perché. Eppure seminiamo in un determinato momento e raccogliamo in un altro momento, proprio perché, a meno che non ci siano, ma anche lì è condizionato da questi aspetti, pensate alle serre. Quindi vuol dire che tutto ha un ruolo fondamentale nella nostra vita. Noi non facciamo parte di un altro universo. Nel nostro universo dobbiamo, viviamo in questo pianeta e dobbiamo fare i conti con quello che condiziona la nostra salute a 360 gradi, compreso la nostra PNEI, quindi la psiconeuroendocrine immunologia e i pensieri e le emozioni che proviamo. Fatta questa premessa, noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, ce l'accennava poco fa Francesco, però cosa mangiamo e cosa respiriamo? Lo abbiamo parlato fino adesso. Vedete, il giusto apporto di nutrienti, il giusto apporto di ossigeno, ci permette di produrre energia a livello ATP, a livello mitocondriale. Quindi la carenza di ossigeno o la carenza di nutrienti mi fa andare in deficit la produzione di energia a livello mitocondriale, a livello ATP. ATP, la molecola di scambio di tutte le reazioni metaboliche, quindi senza la produzione di ATP c'è ben poco da fare. I mitocondri non funzionano in maniera opportuna e sia per un difetto di fabbrica, passatemi il termine, e sia per un apporto limitato di nutrienti o di ossigeno, senza considerare anzi il fatto dell'idrogeno che è fondamentale. Allora possiamo consigliare sicuramente spingere i pazienti, le persone a migliorare il loro stile di vita, scegliere cibi migliori, ma non possiamo fargli cambiare città, non possiamo fargli cambiare lavoro, non possiamo fargli cambiare la casa dove vivono. E qui ricopre un ruolo fondamentale, queste cose sono fondamentali, l'ambiente è fondamentale. E allora di queste cose ne abbiamo parlato fino adesso, ma ripassiamole. Dalla carenza di ossigeno all'idrogeno per la produzione di ATP, disfunzione mitocondriale, la disfunzione del DNA nucleare, il danno microcircolatorio, il danno agricocalice, il danno di membrana, il danno endoteliale, le carenze di vitamine, di aminoacidi, di minerali, perché tutto funziona e tutto lavora perché il nostro metabolismo funziona in maniera ottimale. E spesso alcune carenze, come basti pensare alle carenze di minerali, degli acidi grassi essenziali, sicuramente provocano un danno a livello cellulare. Pensate alla capacità antiossidante, la nostra capacità di modulare l'eccesso di radicali liberi, basta pensare alla soprassimo dismutasi, glutatione, Q10, la vitamina D che ormai è di moda, l'eccesso di radicali liberi, la disfunzione ormonale, tiroidea, il ruolo quindi anche degli ormoni e la quantità di ormoni, le LDL ossidate e l'insulino resistenza eccetera eccetera. Però dobbiamo capire che è fondamentale oggi nel mondo della rivoluzione epigenetica l'ambiente. Perché? Perché nella rivoluzione epigenetica, vedete il Times, il DNA non è il tuo destino e tutto dipende da quello che fai, anche la salute delle future generazioni. E non dimentichiamoci della disfunzione mitocondriale. Guardate, la disfunzione mitocondriale, come ci vedremo dopo, è responsabile della maggior parte delle malattie. E poi l'infiammazione di cui stiamo parlando, il killer segreto. Allora, se parliamo di infiammazione, parliamo di prevenzione. Queste sono le mortalità in Italia annue. Guardate, arriviamo a quello che ci interessa, certo anche sopra, è molto importante, però ci interessa magari i morti a causa dell'amianto? 96.000 siti da bonificare in Italia. Ci interessano oltre 200 siti eco-mafia da bonificare? Penso di sì, perché dormiamo, viviamo, lavoriamo in vere e proprie bombe di inquinamento. Pensate poi le mortalità per polmoniti, incidenti domestici, Alzheimer, fino a 50.000 per errori medici, 84.000 per inquinamento dell'aria, 170.000 per malattie tumorali e il cardiovascolare. Eppure però il problema, senza fare polemica naturalmente, che noi sentiamo spesso è correlato alla mortalità per morbillo. Sicuramente importante, ma guardate che differenza. Se ne parla poco del resto. Le fonti sono ufficiali, perché l'Associazione Italiana di Oncologia Medica e l'Istituto Superiore di Sanità tra le fonti ufficiali di questa statistica. Vogliamo parlare di ictus? In Italia nel 2020, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità del progetto Cuore, l'ictus conta 200.000 casi ogni anno. L'80% sono 9 episodi e il 20% recidive, che riguardano soggetti presentemente colpiti. Ma guardate ancora, guardate, nel nostro paese il numero di soggetti che hanno avuto un ictus, sono sopravvissuti con esiti più o meno invalidanti e pari a circa 913.000. Siamo a un milione di casi. Quindi pensate, la situazione è con me abbastanza preoccupante. Nel mondo il numero di essessi per ictus è destinato a raddoppiare entro il 2020. E questo è il problema. E poi le malattie cardiache, gli infarti, la cardiopartia ischemica 98%, malattie cardiovascolari 44%. Cosa stiamo facendo per queste problematiche? Allora, le patologie si sviluppano a livello cellulare, dall'endotelio, epatiche, muscolari, tessuto connettivo, le cellule matiche, i neuroni. Allora noi dobbiamo lavorare sul sistema immunitario, su tutto quello che aggredisce il nostro sistema immunitario e tutto quello che permette di rafforzare il nostro sistema immunitario. Però vedete, ogni volta che sentiamo una conferenza, un convegno, leggiamo un libro, ognuno ha la sua verità. Io dico che penso che sarebbe importantissimo unire le forze, perché ognuno ha la sua verità e probabilmente quella verità è una verità importante, ma uniamo le forze per vedere e valutare la persona che sono davanti a 360 gradi. Allora, se è vero che l'essere umano ha 25.000 geni, il chicco di riso 50.000, l'essere umano la differenza la fa con le proteine, con l'accensione e l'espeggimento degli geni che modulano queste proteine. Ed ecco che l'epigenetica è proprio la riprogrammazione fisiologica che avviene nelle cellule senza modificare il DNA. Alla fine è il rimodellamento della cromatina. Allora vi chiedo, quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Vi assicuro che questo ne tengono poco conto, ne tengono conto pochissimi. Eppure, come ci insegna uno dei più grandi ricercatori, tra i quali c'è anche il grande professore Ernesto Burgio, la memoria nei geni, genetica e epigenetica, tutto è il ruolo dell'ambiente, stress e dell'eredità. Gli ultimi dati del Ministero dicono che 4 su 10 morono di infarto ictus, l'abbiamo visto prima. Le malattie neurogenerative sono in aumento come i tumori, la terosclerose e i disturbi metabolici. L'invecchiamento è legato all'epigenetica. E poi la rimetilazione del DNA, ne ha parlato e ne parla sempre anche il nostro caro Mauro. Allora, la rimetilazione è fondamentale, i donatori di gruppi metili, sappiamo quanto sia fondamentale l'essenosimetionina in questo caso, l'ottimale ossigenazione come riprogrammazione epigenetica a livello cellulare, la riattivazione mitocondriale che riprogramma le nostre cellule. Oppure ne teniamo poco conto, come teniamo poco conto dell'omogisteina e dei cofattori che ci permettono di controllarla, dalla vitamina B6, i folati, la B12, l'essenosimetionina. Poi ti dicono, no, questi non sono importanti perché probabilmente non sono più brevettabili. È vero anche che spesso questi cofattori devono essere biodisponibili, assimilabili, basso dosaggio, con la forma di somministrazione ottimale a livello magari sublinguale, se potete, e tenere conto che comunque la via di somministrazione è fondamentale. Vi ricordo che l'omogisteina è fondamentale per il controllo di moltissime situazioni a rischio. Cosa fare? Se prevenire è meglio che curare. Noi la prevenzione dobbiamo farla, la vera prevenzione, nei padri e nelle madri prima del concepimento. Vi assicuro che con la nostra scuola di alta formazione, con i relatori, con i ricercatori, con l'università con cui collaboriamo, ormai l'epigenetica è la rivoluzione. Dobbiamo fare i conti con la salute dei padri e delle madri, che trasmettono questo segnale epigenetico fino alla terza, quarta, quinta generazione. Quindi se vuoi un bambino non devi fumare. E cosa ha fatto tua mamma? Cosa hanno fatto i tuoi genitori? Dove hanno lavorato? Dove hanno vissuto? Quello ricopre un luogo fondamentale perché cellule sane si moltiplicano in maniera sana, si differenziano in maniera sana e metteranno al mondo bambini sani. Come ci insegna il grande professor Biava, noi abbiamo un codice epigenetico della vita che gestisce tutto. Questo codice epigenetico è fatto dai regolatori, dei correttori degli errori epigenetici in grado di riparare i danni a livello cellulare, come magari possono riparare anche i danni a livello mitocondriale, del DNA mitocondriale. Però se perdiamo progressivamente questi gruppi di riparazione, queste proteine, noi probabilmente possiamo andare incontro insieme a altri fattori di carenze a malattia. E tutto, vedete, è nel ciclo della vita. Dall'inquinamento tutto quello che mangi poi va a finire nella pancia della madre. Allora guardate, non lo diciamo noi, ma vedete l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro dice Attenzione, nella comparsa dei tumori conta anche l'epigenetica. Anche lì parte da un'infiammazione, da un'infiammazione silente. Pensate che queste malattie si trasmettono alla seconda, terza, quarta, quinta generazione. Ormai gli studi stanno andando in questo senso. Quindi io mi dico, dobbiamo assolutamente tutelare la vita, in cominciare a parlare di un nuovo paradigma per la prevenzione, la rivoluzione epigenetica, in cominciare a parlare di distruttori endocrini, di metalli pesanti, di particolato aerodisperso, di particolato che arriva il PM01, non PM10, PM01, PM1, PM2, 5, che passa la barriera, entra dentro a livello embrionale e sprogramma la vita, sprogramma la vita. Ed ecco, questa è epigenetica. Come vedete, il bambino a destra è genetica. Ma questa invece, questa l'obesità, è anche programmata nelle cellule adipose nella pancia della madre. Perché come sapete, oggi poi in particolare, le madri non mangiano più cibi sani. Quindi mangiano del cibo spazzatura, passatemi il termine, continuano a vivere in un ambiente inquinato, magari del fumo passivo, perché non fumano, ma stanno insieme a un ragazzo che fuma dalla mattina alla sera, magari in macchina. E tutto questo condiziona, inquina progressivamente, la salute delle nostre future generazioni. Quindi il centro delle pandemie è la placenta, come si dice il professore Ernesto Burgio. Ma non lo dice solo lui. Questo è un altro documento ufficiale del Senato della Repubblica. Potete scaricarlo, leggetelo perché è illuminante, chi fa medicina e chi ha a che fare con la salute delle persone. Effetti inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, e non solo, naturalmente. Malformazioni feto neonatali ed epigenetica. Guardate, questo è fondamentale. Perché qui si parla, guardate, ha comunque, comunque si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma embriofetale, con potenziali conseguenti negative a carico dello sviluppo in un'università di malattia dell'infanzia, nel corso della vita, e attraverso trasmissioni transgenerazionali. Capite che siamo in una condizione di emergenza. Perché l'ambiente sta danneggiando le future generazioni. Questa è Priolo, più di mille bambini nati malformati, perché le madri mangiavano il pesce, come sapete, inquinato di quei mari in Sicilia, dove avevano scaricato per 50 anni di tutto e di più. E naturalmente poi nessuno paga queste tragedie. Allora dobbiamo rimettere, rafforzare il nostro sistema, lavorare sui padri e sulle madri, incominciare a mettere posto il motore mitocondriale. Beh, qui è inutile che vi parlo di zucchero, ma è ormai il veleno. Ma se andate in giro per le spiagge o ai bar, questa è la regola. Tutti, cibo, spazzatura, due, tre coca-cole, tre, quattro estate al giorno. Vogliamo parlare dei 467.000 morti per inquinamento in Europa? Vogliamo parlare dell'inquinamento prende il controllo del DNA e aumenta le malattie cardiache e respiratorie? Che 1,7 milioni di bambini ogni anno muore per inquinamento? Che il 95% della popolazione mondiale respira era inquinata? Ecco, io di queste cose ne sento parlare veramente troppo poco ai convegni, alle conferenze, ai seminari. Non si parla di impatto ambientale, non si parla di metalli pesanti, non si parla di amalgame dentali, di otturazioni, che ancora molti hanno nelle loro bocche di metilmercurio. Ogni volta che mastichiamo rilasciamo metilmercurio. E in quei soggetti predisposti probabilmente c'è un rischio altissimo di magari malattie neurodegenerative. Questa è la situazione, questa è la fotografia del nostro pianeta, dove continuiamo a comprare pubblicità, non quello che ci serve, o quello che serve per la salute, ma compriamo pubblicità e viviamo in un mondo ormai malsano e inquinato, dove l'inquinamento elettromagnetico sta facendo veramente dei danni irreparabili alla salute. L'abbiamo visto nei topini già e l'Istituto Ramazzini l'ha dimostrato, nei topini, che induce tumori, però i topini sono un'altra cosa, no? Perché, ma come? Se tu mi vuoi provare se un farmaco fa male o fa bene, lo dai ai topini. E se fa male non me lo dai a me. Adesso, invece, se il campo elettromagnetico fa male ai topini, fa bene agli umani, c'è qualcosa che non mi torna. E infatti quello che non torna, guardate questo, queste sono le radiazioni a un cervello di un bambino di cinque anni. Pensate a un bambino prematuro, ancora nella pancia della madre, pensate a quella donna in gravidanza, cosa può fare un campo elettromagnetico. e questo oggi i cellulari sono diventati babysitter per i bambini, per guardare i film, per addormentarli e noi non li lasciamo dal comodino, devono stare entro a portata di mano, anzi, sono la prolunga delle nostre mani. Dovremmo cominciare a capire che i campi elettromagnetici non li vedi, non li senti, ma ti distruggono a livello del sistema nervoso. Un danno cellulare cronico, poi c'è questi tralicci dell'alta tensione, c'è il wifi, attenzione, il wifi, molti wifi già viaggiano in 5G. Ah, quando arriva il 5G? No, già i wifi viaggiano con frequenze 5G. Attenzione! E infatti questa scienziata diceva attenzione e i bambini, le radiofrequenze, il wifi, attenzione alle scuole perché questo sta danneggiando pericolosamente la salute dei nostri bambini. E allora noi viviamo in quel mondo e dormiamo in quel mondo, non solo i nostri bambini, ma anche noi, le future generazioni, le madri, i padri e poi ci lamentiamo. Guardate, già gli studi, attenzione, i telefoni cellulare, influenza, sviluppo del cervello e nascitura può portare iperattività. Solo iperattività? Noi siamo acqua, 70-80% di acqua, l'acqua a contatto con i campi elettromagnetici viene distrutta. E' già ufficiale degli studi del ruolo dei campi elettromagnetici sull'infoma, le eucemie, melioma, danni importanti. Naturalmente, l'ambiente agisce sui geni. Certo, brocca lo sottolamento del DNA, si lega all'istone, nella coda dell'istone e quindi blocca la possibilità di replicare, correggere, duplicarsi e quindi iniziano le malattie. Quindi è l'accensione, lo spengimento giusto dei nostri geni che fa la differenza. E se non abbiamo a disposizione fattori giusti, è chiaro che c'è un danno. Magari vengono utilizzati dei minerali pesanti al posto dei minerali che noi non assumiamo con la dieta. E quindi ecco che noi dobbiamo avere un approccio a 360 gradi, un nuovo paradigma. Medicina curativa o medicina preventiva? La medicina preventiva è quella delle 4 P, personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa. Quindi dobbiamo incominciare a creare cultura sulla prevenzione nelle scuole, nelle famiglie, nei genitori assolutamente, nei ragazzi pre-malattia come funziona? Ebbè, c'è una continua disfunzione, probabilmente un'infiammazione silente legata proprio alla genetica, all'esposomica, all'epigenetica, alla nutrigenomica e sociomica. Il social network, il dottor Google. Quindi il DNA non è il tuo destino, quindi noi il dogma centrale della biologia molecolare, un gene, una proteina, assolutamente non è più così, lo sappiamo, c'è un meccanismo fondamentale soprattutto della dieta e il grande Francesco sa di cosa parliamo, anche Mauro, dieta, nutrienti, metabolismo, segnalazioni, le segnalazioni redox soprattutto, la modulazione fisiologica a livello cellulare dei nutrienti che ci permettono un'espressione genita ottimale. quindi attraverso il fenotipo, ambiente e i geni. Quindi questo è uscito, questa rivoluzione epigenetica, sapete, è nata ormai da oltre 30 anni e ormai ci dedicano le copertine moltissimi giornali del settore e non solo. partendo dal dal fatto che noi siamo tutto quello che mangiamo, beviamo, respiriamo, eccetera, sappiamo anche che la nostra genetica fino a qualche tempo fa diceva era legata soprattutto al DNA ma abbiamo capito adesso che il DNA non è il tuo destino e che quel 98% che veniva chiamato spazzatura non è proprio così, anzi, è ricoprire il ruolo fondamentale, è il ruolo della vita il 98% del DNA. 98% pensate a quello che erano le credenze limitanti che condizionavano poi anche da un punto di vista scientifico ed ecco dove il ruolo le funzioni cellulari sono fondamentali come la sintesi proteica, la sopravvivenza del DNA, la riparazione, l'attività mitocondriale e guardate adesso quanto il ruolo proprio epigenetico i fattori epigenetici influiscono direttamente sui processi anche dell'invecchiamento e quindi tenere presente l'ossidazione l'agricazione anabolismo e catabolismo a livello cellulare quindi la riparazione ed eccoci all'infiammazione quindi permettetemi questa vignetta dove ognuno di noi che opera in questo settore sia per trasferire certi concetti e chi nella pratica clinica fa un po' tutti i giorni da pompiere per spegnere l'incendio quindi dell'infiammazione cronica dove sicuramente l'obesità ricopre un ruolo fondamentale da tenere sotto controllo ma non solo perché si parte da una disfunzione mitocondriale da una carenza di ossigeno e quindi attenzione c'è una linea materna che predispone a questo tipo di patologie come abbiamo visto quindi il monitoraggio della lipidomica è fondamentale della modulazione dello stress ossidativo dei esami di cui abbiamo già parlato e hanno parlato dall'emoglobina glicosilata all'emoglobina glicata alla zonulina l'esame della zonulina fondamentale per la permeabilità dell'intestino quindi quanto oggi sia fondamentale però il mio messaggio è questo se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto probabilmente rischiamo di restare dove siamo e avremo gli stessi risultati ancora di più voglio dire che un uomo intelligente risolve un problema e un uomo saggio lo evita ecco l'epigenet rafforzare il nostro sistema immunitario e stare molto attento a tutti questi fattori che non sprogrammino la nostra salute e la nostra vita perché siamo centomila miliardi di cellule e la salute dipende dalla salute delle nostre cellule dove vive la nostra cellula oggi parlavamo anche di matrice extracellulare io vorrei parlare di membrana cellulare di glicocalici Mauro che se ne parla pochissimo dove il ruolo dell'ossigeno è fondamentale ma anche l'intossicazione progressiva della matrice extracellulare è fondamentale tenere sotto controllo perché? perché l'uomo ha l'età del suo mitocondrio il DNA mitocondriale decide la longevità quindi decide anche la salute e tutte le malattie partono di qui da una disfunzione mitocondriale ce lo dice la fondazione di medicina mitocondriale allora noi pensiamo a ricaricare le batterie del cellulare? dovremmo incominciare a pensare di ricaricare le batterie della nostra vita quelle dei mitocondri dovremmo pensare al fatto dell'ereditarietà della linea materna in grado di trasmettere malattia della disfunzione mitocondriale legata all'infertilità spesso sottovalutata per carenze a livello di carmitina creatina carenza di ossigeno carenza di coenzima Q10 della della lipidomica di queste cellule fondamentale per la salute e per la fertilità e guardate inquinamento genetica ed epigenetica infertilità maschile in aumento in base a uno studio di un centro per la procreazione assistita la percentuale dei gameti maschili danneggiati è in aumento in Europa inquinamento e fertilità guardate c'è proprio un rischio sanitario dell'aspettativa di vita sana l'aumento del tasso di mortalità è inoltre riconosciuto che l'inquinamento atmosferico ha un impatto negativo sulla riproduzione femminile e maschile infatti l'impatto inquinamento generale indotto a diversi inquinanti che agiscono simultaneamente influenza sia la qualità che la qualità dei gameti ovuli e spermatozoi è lì che si genera la vita è lì che dobbiamo intervenire è lì che dobbiamo fare prevenzione dopo è troppo tardi dobbiamo rimettere in moto il motore perché se una mela marcisce la buttiamo via se accade una cellula questo non ce ne accorgiamo quando è troppo tardi quindi l'ossidazione va prevenuta va protetta le nostre cellule per evitare i danni a livello cellulare quindi le malattie si possono intervenire come sapete nella prima parte sopra fino all'integrazione alimentare questa è vera prevenzione sotto è terapia guardate questo è lo studio giapponese che ci ha dato e ci presenta sempre il professor Iorio vedete 1950 2000 notate le differenze della presenza di nutrienti dei nostri cibi c'è una grande differenza ecco perché dobbiamo integrare oltre perché l'inquinamento l'infiammazione silente la riattivazione mitocondriale quindi le carenze nutrizionali perché il cibo non contiene più poi ci sono sempre più cibi raffinati in pubblicità e la gente compra quella anche per una questione socio-economica sicuramente c'è un problema fondamentale di mancanza proprio di cultura dove dove un ruolo dell'ipossia ne parlava prima anche Mauro la carenza di ossigeno ipossia ipossica anemica stagnante estotostica l'istotostica ricopre un ruolo fondamentale della riduzione della sintesi ATP a livello mitocondriale quindi iniziano i danni ai tessuti e poi stanchezza cronica capacità di recupero limitata intossicazione cronica perché i mitocondri non riescono più a smaltire le tossine in maniera ottimale mancanza della depurazione a livello mesenchimale della nostra matrice e poi l'ischemia di perfusione perché quando ritorna l'ossigeno e non c'è più una capacità di ossidante ottimale come vedete si sviluppa malattia quindi bisogna modulare l'ossigeno questo è fondamentale è la permeabilità l'eccettabilità la secrezione l'escrezione la meostasi metabolismo tutto dipende dall'ossigeno tutto senza ossigeno non ci sarebbe vita e ce lo dice nel libro di fisiologia medica Guiton qualunque sofferenza o stato o malattia nasce da una sufficiente ossigenazione a livello cellulare guardate vi ho portato anche qualcosa di interessante sull'ipossia legato al covid-19 proprio per un'infiammazione silente guardate questo è uno studio se lo volete poi ve lo posso anche passare infiammazione silenzia e coronavirus dovuto proprio a una carenza di ossigeno ma ce l'ho spiegato molto bene anche Warburg nel 1931 ha preso il premio Nobel quindi l'ipossia infiammazione nell'infiammazione nella malattia infiammatoria cronica intestinale nella rete exomica è fondamentale la rivoluzione epigenetica passa da qua genetica metabolismo e ambiente quindi bisogna pensare a un'integrazione ottimale cosa la via di somministrazione la biodisponibilità la forma farmacocinetica sublinguale perlinguale cosa e poi la capacità antiossidante di quello che assumiamo spesso assumiamo integratori senza conoscere la capacità antiossidante o la biodisponibilità questo è un vero problema poi magari Mauro se vuole dire qualcosa è la modulazione fisiologica è fondamentale oggi non si parla più di antiossidanti bisogna parlare di modulatori fisiologici di nutraceutica di modulazione della carenza di ossigeno di regolare proprio la giusto apporto di ossigeno a livello mitocondriale e guardate questi sono studi magari poi tanto queste ve le lascio quindi il Cordis questo è uno studio di 5 anni 21 paesi in Europa dopo ha dimostrato che grazie alla corretta ossigenazione abbiamo una corretta metilazione la metilazione è fondamentale per la vita e lo abbiamo proprio ribadito in questo libro la modulazione fisiologica ad ossigeno on demand l'ultima sfida della nutraceutica scritto insieme altri 18 medici che è edito da Edra e anche online quindi l'orchestra è fondamentale di grandi professionisti ma anche strumenti che funzionino che servono informazioni come queste questo bellissimo iniziativa di Francesco e Mauro complimenti perché così facciamo cultura e noi da sempre proponiamo self food un modulatore fisiologico in grado di lavorare sull'acqua quindi se noi beviamo un bicchiere d'acqua con alcune gocce di self food abbiamo prima un azione antiossidante poi un rilasso di ossigeno che o ossigena le cellule e riattiva i mitocondri o si lega l'idrogeno e riforma acqua quindi permette anche di disintossicare in profondità l'organismo aumenta l'ossigeno fino all'80% con una capacitante antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano fondamentale quindi avere dei modulatori in forma colloidale altissima biodisponibilità che non creino accumulo che siano assolutamente non creino iperdosaggio che siano altamente biodisponibili e come vedete se potete scegliete o spray o sublinguali questi sono gli studi fatti dall'università di Milano San Raffaele di Milano quindi questi studi sono pubblicati su PAMED e se ne può parlare a qualsiasi corso perché quando ci sono pubblicazioni è fondamentale questo anche avere un riscontro da un punto di vista universitario questo è fatto all'università di Milano queste sono le cellule UV del cordone umbilicale umano in ipossia dopo l'apporto di deutrosulfazime come vedete c'è una differenza netta sull'attivazione mitocondriale del DNA nucleare con un'induzione per promuovere la superossima dismutase manganese dipendente sono stati fatti studi anche pubblicati dall'università da regina Elena di Roma l'istituto tumori regionale di Roma che ha pubblicato su Oncotarget una rivista di impact factor molto alto la possibilità di intervenire con nutraceutico deutrosulfazime sulla possibilità proprio di mandare in morte programmata in apoptosi le cellule tumorali poi sono stati fatti studi sulle patologie neurodegenerative Parkinson Alzheimer sclerosi multipla questo è uno studio su 39 pazienti ma poi abbiamo fatto uno studio su 230 pazienti dove si è visto un aumento della capacità antirassidante diminuzione dei radicali liberi diminuzione dell'omocisteina aumento dei folati aumento della B12 quindi tutti i parametri dello stress ossidativo migliorati e poi alcuni altri studi pubblicati anche nella fibromialgia a un dosaggio anche abbastanza alto poi questi sono studi sulla modulazione dell'epoptosi delle cellule leucemiche pubblicati ancora la modulazione del P53 certo ampio range di indicazioni gli studi li trovate tutti pubblicati su PAMED andiamo in conclusione se è vero che l'informazione è prevenzione è vero anche l'epigenetica è soft della vita e allora quando valutiamo una persona da un punto di vista preventivo o di supporto terapeutico non possiamo prescindere da tutti questi fattori soprattutto dall'ambiente attenzione ai campi elettromagnetici che non ci si pensa mai al radon alle radiazioni il radon vi ricordo che l'organizzazione mondiale della sanità l'ha messo come una delle maggiori cause di malattie a livello tumorale e oncologiche quindi attenzione il radon chi vive negli scantinati chi vive al piano terra areggiate sempre i locali dove vivete in quelle zone e poi la biofisica che ci viene incontro noi possiamo creare anche dei report epigenetici questo è un bulbo del capello che se noi lo prendiamo lo mettiamo su una su uno scanner questo è S-Drive è stato fatto anche ultimamente uno studio pensate su oltre 2800 persone quindi è uno studio interessante con un supporto veramente nutrizionale questo ci ha permesso di conoscere per ogni persona qual è l'impatto ambientale i campi elettromagnetici il sistema antiossidante sfida ambientale il sistema gastrointestinale le carenze di acidi grassi essenziali e intervenire in maniera personalizzata perché non si nasce tutti uguali dicevamo prima con la disfunzione mitocondriale e l'apporto o no di ossigeno che è in grado di modulare in maniera ottimale la funzionalità mitocondriale e cellulare e quindi dobbiamo conoscere se quella persona vive in un ambiente inquinato per esempio con interferenze ai campi elettromagnetici oppure impatto ambientale oppure ha metalli pesanti oppure vive in una zona inquinata naturalmente tutte le certificazioni viene utilizzato anche dalla medicina integrata dalla riproduzione e poi arriviamo al fatto e arriva a dire il concetto che però se noi non uniamo le forze e coltiviamo solo il nostro giardino non possiamo fare la differenza dobbiamo unire le forze l'alleanza dei cervelli cominciare a parlare di vera prevenzione pre-primaria nei padri e nelle madri prima del concimimento di disfunzione mitocondriale della corretta ossigenazione e poi tutto il resto che abbiamo visto oggi e poi conoscere che noi dobbiamo essere di esempio che il nostro benessere dipende da noi stessi quindi lavorare su noi stessi per essere di esempio e consigliare gli altri a fare le cose che noi diciamo di fare con assoluta coerenza è lì che poi si hanno i risultati e poi l'amore per la vita perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte permettetemi di finire con questo messaggio con il quale chiudo sempre le mie conferenze perché la vita senza amore non ha senso e se non funziona raddoppiamo la dose grazie di cuore grazie a tutti